Daniele Colli, oggi poteva essere un arrivo adatto a te, ma la caduta di ieri pregiudicherà forse le tue chance? Sì, oggi era adatta a me, già due anni fa arrivai terzo, quindi sarebbe stato un arrivo ottimo per me. Purtroppo la caduta di ieri si è fatta sentire, si farà sentire oggi, quindi sarà difficile già arrivare a traguardo. Quindi incrocio le dita e mi aspetto alla giornata faticosa. Abbiamo comunque Simone Pozzi che sta pedalando bene, quindi penso che oggi sarà lui il leader per la nostra squadra, quindi vedremo un po' il da farsi. Come è stata la caduta e dai controlli cosa hai emerso? Ma nulla, probabilmente c'era a terra qualcosa, perché siamo caduti sia a sinistra, con i corridoi della Cofilis che sono entrati all'interno, e poi all'esterno sono caduti due cagli a Rurac, quindi probabilmente l'asfalto, o non in perfette condizioni, ha un po' compromesso il tutto. Ok, grazie.